Anche i vertici del basket azzurro fanno tappa a Pesaro in visita alla spettacolare mostra dedicata ai 45 anni di Superbasket. Il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco e il Presidente Federale Gianni Petrucci hanno fatto tappa al Centro Artivisive Pescheria per apprezzare l'esposizione curata da Alberto Cecere in un giorno particolare per il basket italiano e pesarese, ovvero all'indomani della conclusione della regular season della Serie A e della qualificazione ai play-off della VL. Alla fine penso che ieri per Pesaro sia stata una giornata emozionante per i tifosi perché ho seguito tutto quello che è successo e siete usciti dal campo vittoriosi ma non ancora con la qualificazione in pugno. Poi immagino, penso che abbiate seguito tutti insieme l'andamento della partita dei Scafati e quindi avete festeggiato due volte nella stessa giornata. Queste sono le emozioni di cui vi parlavo prima. Pesaro in questo momento non ha, come dire, vinto nulla, però la verità è che invece ha raggiunto un obiettivo che è, insomma, ambito e che ha provocato gioia. Treviso l'ha vissuta una settimana fa. Nel mondo dello sport dobbiamo un po', secondo me, cambiare questa mentalità, riuscire a capire che ci sono squadre che hanno determinati obiettivi, altre che ne hanno diversi. È un po' zecco quanto mai focalizzato su quanto questo campionato abbia prodotto sulla valorizzazione dei giocatori italiani, spesso relegati a comprimari. La VLS invece dimostrata un valore aggiunto per farli assurgere a ruolo di protagonisti. A Pesaro, Moretti, Tambone, insomma, sono giocatori che secondo me hanno avuto un buon impatto di sconti. Sì, anche Totè, è vero, sta giocando di più, sta giocando bene. Io sono convinto che ogni squadra forzatamente, per esempio, debba mettere dei giocatori in quintetto, soprattutto gli italiani, per riuscire poi ad avere un roster sufficientemente competitivo. Spero che questa cosa, insomma, attecchisca sempre di più. Torna a Pesaro anche il presidente FIP Gianni Petrucci, ancora più legato alla pallacanestro cittadina, vista l'imminente realizzazione della cittadella del basket. Pesaro è una delle città importanti della pallacanestro italiana e merita questo, è meritato anche, senza nulla al togliere a Varese, il fatto della cittadella del basket. Poi corricce un rapporto particolare, avete visto poi quando la nazionale è venuta qui, quel supplementare sfortunato, però poi l'abbiamo battuto in Spagna loro, è tutto esaurito, il parterre d'Erua, tutti i grandi dal ministro dello Sport, Malago, Valentino Rossi e Peco Bagnaia, quindi Pesaro merita questo e altro. Da Petrucci a Pozzecco inevitabile il pensiero al mondiale. Sono convinto che il giro non è così semplice per come sembri, però è anche vero che poteva essere estremamente più complicato se avessimo beccato l'Australia o l'America, quindi poi è anche vero che penso che in competizione del genere è molto meglio essere fortunati all'inizio che alla fine, però siamo soddisfatti di quello che è stato il sorteggio e sono convinto che i ragazzi che faranno parte dell'avventura azzurra e emozioneranno per come l'hanno fatto durante l'Europeo o a Pesaro, insomma eravate tutti, siete stati tutti testimoni, seppur in una partita persa, penso che la gente si sia divertita, si fosse divertita e lo dico da un po', non dobbiamo essere così focalizzati sul risultato, perché è vero che il risultato è importante, però è anche vero che secondo me le emozioni che una squadra di palacanestro può regalare, non sono sempre come dire così condizionate dei risultati.